agli ordini dello starter i cavalli della settima e conclusiva corsa del convegno il premio uronometro prova sui 2640 metri con partenza però dietro l'autostart con numero 1 valchiria spin daniele cuglini il 2 virtuoso luis gaetano di nardo il 3 victor bebo lucio becchetti il 4 ob jet roberto vecchio nel 5 unicum b antonio di nardo il 6 travolta trev dario battistini il 7 universo jet christian fracassa rinuncia al lancio victor bebo parte piano anche universo jet allo stacco emerge all'esterno travolta trebbe che scavalca virtuoso luis e valchiria spin con virtuoso luis che subito va a chiedere strada travolta trebbe che probabilmente sulla lunga distanza prefera preferirà agire di rimessa la quarta posizione per il favoritissimo unicum b che precede ub jet e a chiudere universo jet e victor bebo lunga fila indiana comandata ora da virtuoso luis il primo mezzo giro in 37 e mezzo sul piede dell'1 e 15 prende qualche lunghezza di vantaggio virtuoso luis a travolta trebbe valchiria spin unicum b che si affaccia all'esterno imboccando la seconda curva e in anticipo su ub jet e ricordo la corsa sui 2640 metri quindi c'è da percorrere ancora un miglio sposta decisa valchiria spin dalla terza posizione dopo aver anticipato unicum b va all'attacco di virtuoso luis e passa di forza a condurre c'è una nuova battistrada e valchiria spin con daniele cuglini davanti a virtuoso luis i primi mille due vanno via in 131 e 2 virtuoso luis che probabilmente ritorna su valchiria spin la fianca quando ormai mancano mille cento metri della conclusione si muove ora deciso all'esterno unicum b affiancando travolta trebbe poi ancora ub jet universo jet e victor bebo virtuoso luis ancora al comando di nuovo mentre unicum b si ritrova scoperto al lato i valchiria spin quindi travolta trebbe ub jet davanti universo jet e in coda victor bebo 800 metri alla conclusione e andiamo tra poco a registrare unicum b all'attacco di virtuoso luis quando siamo ormai al completamento del doppio chilometro iniziale e unicum b tende a passare dopo duemila metri sul piede dell'1 e 15 2 31 per i primi duemila metri è passato unicum b su virtuoso luis muova largo bene ub jet poi valchiria spin avanza anche universo jet sbaglia ub jet virtuoso luis si ripropone ancora all'attacco di unicum b una grande prestazione virtuoso luis è protagonista di tutti gli strappi ma unicum b reagisce sembra molto più incisivo ora universo jet che si lancia all'assalto di unicum b cala ora virtuoso luis migliore in terza posizione victor bebo poi valchiria spin c'è l'attacco deciso di universo jet a unicum b insiste universo jet sta passando passa e vince universo jet con christian fracassa che batte il favorito unicum b al terzo posto victor bebo 753 dovrebbe essere l'arrivo della settima e conclusiva corsa da capannelle 3 14 e mezzo il totale sui 2600 metri per la vittoria di universo jet il figlio di naglo con christian fracassa alla guida e al training a quota di 24 e 78 davanti a unicum b e al terzo posto victor bebo 753 è tutto dall'ippodromo delle capannelle valer giubilo vi ringrazia vi dà appuntamento qui per mercoledì 12 giugno grazie a tutti